Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa del 12 giugno. Cosa è successo sui giornali? Intanto diciamo cosa è successo in Italia perché hanno arrestato l'imprenditore Arata che era vicino alla Lega e che era l'uomo che avrebbe dato un contatto a Siri attraverso l'associazione dell'eolico per poter far sì che passasse un emendamento, motivo per il quale fu indagato Siri e adesso arrestano l'imprenditore. Insomma le questioni giudiziarie sono caldissime in corso e sempre apro la parentesi e chiudo la parentesi quando si parla di un imprenditore legato alla politica si arresta, quando si parla di magistrati che avrebbero secondo me sono innocenti fino a prova contraria preso 40 mila euro e fatto viaggi per poter sponsorizzare il capo di una procura in quel caso si indaga con grande silenzio senza nessuna intercettazione e carta pubblica sui giornali. I giornali oggi titolano tutti con questa ipotesi di Salvini, tassa sulle cassette di sicurezza. Oggi addirittura il giornale di cui sono vice direttore dice il Salvini ipotesi patrimoniale. Mi preme spiegare perché di questa cosa me ne sono occupato un po' nel passato, di che cosa si tratta? È una cosa molto diversa rispetto a quella di cui stanno parlando i giornali ed è una questione che avevano provato a fare tutti i governi passati e cioè qual è il punto? Siccome molti italiani hanno tenuto i soldi nel cassetto sotto il materasso come si diceva prima o addirittura hanno tenuto i soldi nelle cassette di sicurezza tutte le voluntary disclosure, tutti gli scudi fiscali, tutte quelle operazioni per far emergere il nero fatto nel passato, bene tutte quelle operazioni avevano in realtà escluso i contanti. Difatti brava Simona Tremonti lo fece con i capitali all'estero. Qui quello che succede dunque che cos'è? Che l'ipotesi sempre bocciata dall'agenzia delle entrate e che ha idea di fare Salvini è un altro condono! Non è una patrimoniale, non è una tassa, non è una nuova tassa, è un condono sui contanti perché lasciate perdere voi che avete 2.000, 3.000, 4.000 euro a casa o nella cassetta di sicurezza ma c'è gente che nel passato aveva 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro. Da dove arrivano questi soldi? È chiaro che molti soldi possono arrivare dal riciclaggio e oggi tu non puoi farli neanche vedere perché ti arrestano. Quindi il tentativo, poi dopo ne discutiamo, piacere o non piacere, è di fare il condono si condanti, come è stato fatto il condono, si soldi detenuti all'estero, saluto Giordano che vedo collegato Gianni che vedo collegato e Alessandra che mi ha preso in diretta. Quindi vi può piacere eticamente o non eticamente però le cose stanno in questa maniera, cioè per fare cassa si può rosicchiare l'ultima parte delle volontari e degli scudi fiscali che non hanno fatto i passati governi. Questa è l'idea di Salvini. Nel frattempo cosa succede a questo governo? Beh, insomma i giornali oggi sono un po' unanimi. Uno direbbe il ruggito del topo, il premier strapazza Salvini, basta dipingermi come il nuovo Monti, dice il fatto. Repubblica, se non andiamo d'accordo io li lascio liberi, se vogliono andare a sbattere contro un muro vadano. Questo è Conte che si riferisce ai suoi vice premier. Libero, Conte crede di essere il premier. Ed è divertente come, insomma, guardi tutti quanti i titoli, tutte le retroscene su Conte e poi dopo in maniera icastica come sa fare soltanto Feltri li prende in giro. Questo direi che è l'editoriale sul governo, lui che alza la voce e qualcuno che lo riporta al suo terreno, cioè il fatto che lui è controllato di fatto dagli altri. Stupendo il tema della sinistra perché dovete sapere che c'è l'anniversario di Berlinguer e il pezzo migliore oggi, io lo leggo, scrive anche Facci sul Libero, ma il pezzo più bello di questo grande mito dell'eurocomunismo, questo dice Facci il mito che è una cagata pazzesca dell'eurocomunismo, cioè Berlinguer era un comunista e fece un articolo sul Corriere della Sera che ce la mena oggi Travaglio e ce la menano tutti quanti quelli di sinistra, leggetevi oggi Crippa in cui dice la crisi della sinistra che sa dire solo onestà nasce quando Berlinguer non ha più un progetto politico se non quella dell'onestà che è fondamentale ma è un prerequisito della politica, tu devi pensare non che i politici debbano essere onesti ma dove puoi portare questo mondo, è chiaro? L'uno e l'altro devono coesistere, non vogliamo dei politici ovviamente disonesti ma forse non vogliamo ancora di meno dei politici che non sappiano dove saremo fra sei mesi o fra un anno. Crippa sul foglio lo spiega benissimo al mito della giustizia proletaria Berlinguer ha sottidito il mito della giustizia dei tribunali, Berlinguer e la sinistra, l'unica cosa a cui la sinistra in Italia si è genuflessa è quella dei magistrati, beati loro e per un tempo quindi ne sono stati come diciamo in una certa miniera scudati come le cassette di sicurezza che vorrebbe scudare Salvini scudati fino a un certo punto perché adesso il gran pasticcio del CSM prendi fiato perché non ti seguo, se capisce lasciamo perdere e io prendo fiato sempre se no morirei. Allora che cosa sta succedendo sul CSM? Che ogni giorno ce n'è una nuova cioè alla fine oggi pare che ci siano altri due consiglieri del CSM che hanno fatto truschetti per trovare chi nominare a capo di quella procura piuttosto che dall'altra La Chirico oggi, ed è molto bello secondo me, cosa fa sul foglio? Beh, dice come si usa il Trojan. Il Trojan è una specie di piccolo spyware, una specie di spia che mettono il vostro cellulare, nei nostri cellulari e vi seguono ovunque e poi ascoltano tutte le vostre conversazioni, possono usare la vostra telecamera, vedono i vostri messaggi privati ma fanno le intercettazioni ambientali solo attraverso il vostro cellulare è un'invasione della nostra privacy mostruosa, per cui si rischia con i Trojan, seguitemi bene, e questo è stato usato contro Palamara, ci sono 800 pagine di queste intercettazioni da cui usciranno delle cose magnifiche per i giornalisti, orribili per chi le subisce con l'utilizzo di queste tecnologie, qual è il rischio che solo quei quazzoni dei giustizialisti dicono intercettateci tutti? Che i magistrati in realtà, soprattutto quelli dell'accusa, sono alla ricerca dell'accusa e non sono alla conferma della propria ipotesi investigativa e in più, perché usare questo strumento che viola qualsiasi delle nostre libertà e ognuno di noi alla fine può commettere qualche imprudenza, perché usarlo per reati che non siano gravissimi, il terrorismo, la mafia, su questi io posso anche... Il Trojan è roba, Paolo hai ragione, tu da DDR, ma è stata usata con Palamara e ne vedremo delle belle, e ne parla la Chirico. L'ultima cosa riguarda il tabaccaio che secondo l'autopsia, ieri si è scoperto che avrebbe sparato dal balcone e avrebbe ucciso il giovane Moldavo che era entrata nel suo tabaccaio per rubargli 2000 euro di monete. Gramellini oggi, la difesa della proprietà privata giustifica la reazione... Cioè sostanzialmente dice che non si può pensare che la difesa della proprietà privata possa giustificare questa reazione nel modo in cui vogliamo, cioè nello sparare. E dice che quando le vittime vengono derubate devono chiamare i carabinieri. Allora, vedete, secondo me Gramellini, come tanti altri osservatori, vivono fuori dal mondo e hanno anche idee politiche completamente ideologiche e metodologiche completamente diverse dal mio. Primo, la proprietà privata è intoccabile, secondo me anche dallo Stato, sono molto attento anche quando lo Stato ci vuole spropriare. Primo, secondo, la proprietà privata violando la mia residenza è ancora più intoccabile. Tu non entri in casa mia ed è entrato in casa sua. Io se entri in casa mia sono assolutamente disponibile a fare quello che voglio. Terzo, terza questione fondamentale. Questi qua, che tutti descrivono come dei disperati, questi che sparano, non dei pistolero, non dei Charles Bronson, sono esasperati. E allora, quando Gramellini mi scrive, chiamassero i carabinieri, vuol dire che non ha capito nulla di dove e come vivono questi qua. Non vivono come Gramellini che hanno l'autista per portarli a Rai 3 a fare il suo programmino. Questi qui sono stati rapinati altre sette volte. Non hanno mai ottenuto giustizia. E prima o poi, una di queste volte, gli fanno un culo così, come è avvenuto in tantissimi casi. È vero, sono diminuiti i furti, sono diminuiti le rapine, dicono, ma chi ne subisce sette, se ne fotte che siano diminuiti per gli altri o che ci sia minori denunce e quindi sembra che queste furti siano diminuiti. Pensa a se stesso. Il gommista che aveva sparato l'altra volta, 30 furti. Sapete che vi dico, se io subisco 30 furti e mi armo e decido di armarmi, io sparo. Perché è evidente, perché lo Stato non mi difende più, perché lo Stato non fa quello per cui lo pago con le mie tasse, che si chiama sicurezza, confini esterni e giustizia. Poi è evidente che lo Stato deve indagare. È evidente che ci devono essere processi in questo caso, perché non possiamo immaginare che la gente inizi a sparare e finga di sparare a tutti con questa scusa. Ma detto questo, io questo moralismo per cui non si può difendere la proprietà privata non lo accetto. Questo moralismo per cui si dice, chiama i carabinieri, è altrettanto folle, perché gli stessi carabinieri quando arrestano vedono i propri signori mandare via. Io vorrei sentire l'unica obiezione al mio, diciamo, durismo, cielo durismo. Su questo sapete quale sarebbe? Io vorrei semplicemente il carcere in flagranza di reato, nei furti, nelle rapine in casa e la sicurezza della pena. Quando ci sarà un mazzo così, ma non più pene, non 10 anni di pena, tu vai a rapinare un signore, vieni beccato, ti sbatto in Italia per tre anni, non c'è neanche un beneficio, stai là per tre anni, capito? Questo mi potrebbe giustificare una deterrenza nel fare un furto, ma siccome non esiste in Italia questa deterrenza, capisco, anche se io non lo farei mai, questa gente che spara. La capisco, posso dirvi? La capisco. Bene, fantastica la polemica in Gran Bretagna per l'aumento, cioè sostanzialmente in Gran Bretagna, Daily Mail oggi ne parla una pagina intera, si stanno occupando solo del fatto che il canone della BBC non verrà più tolto agli ultra 75 anni disagiati. È una polemica favolosa perché è così italiana, grandissima polemica perché la BBC farà pagare il suo canone, che peraltro è il doppio quasi di quello italiano, che è 154 sterline anche ai signori, oltre 75 anni con pensioni da fame e quindi c'è una polemica mostruosa. L'ultimo dato invece è economico e lo cita oggi il Sole 24 Ore. Ci sono in circolazione 12 miliardi, cioè 6 volte il PIL italiano, 12 mila miliardi di obbligazioni con rendimenti negativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che io presto i soldi allo Stato e oltre a prestargli i soldi, pago lo Stato perché me li prenda. Non so se avete capito bene il concetto. Cioè io vado dal tesoro tedesco e gli dico mi vendi un Bund, cioè sostanzialmente ti posso dare 100 euro? E lui dice sì ti do 100 euro ma ti do 99 euro di Bund. Cioè io pago per prestare dei soldi allo Stato. È una cosa pazzesca, avviene qualche volta, ma il buonsenso, era avvenuto nel 2016 un record altrettanto forte. Il buonsenso è che un sistema per cui si paga per prestare soldi è un sistema in cui c'è qualche cosa che non gira per il verso giusto. Io ve lo dico senza sapere niente, senza aver letto Friedman, senza pensare all'inflazione, senza pensare alla velocità della moneta, senza condividere gli austriaci. Lo dico perché un contadino, un cameriere, un giornalista, un filosofo non può pensare che sia normale che io presto dei soldi a qualcuno e per prestare dei soldi a qualcuno glielo debbo pagarlo. In genere quando io presto dei soldi a qualcuno e rinuncio ai miei quattrini, quel qualcuno mi dà un interesse, perché io rinuncio a qualche cosa oggi per darla a qualcun altro. Se questo avviene vuol dire che c'è una patologia nel sistema economico e finanziario nel mondo. Cosa potrà succedere? Non lo so, ma penso che questa roba qui prima o poi qualcuno dovrà farci i conti. Non è vero, paghi per la sicurezza di averli indietro, dice Alessandro. Quindi lui pensa che prestare i soldi alla Bundesbank vuol dire, ed è la tesi estremizzata di De Soto, io pago per avere la sicurezza di avere fra dieci anni quei soldi indietro, che è esattamente il motivo. Friedman non è certamente quello, Alan. Però il tema non è così semplice e ci saranno ovviamente modi e tempi per approfondirlo di più. Bene, un grande saluto a tutti quanti voi e vi ricordo che sul mio sito oggi ci sono tante cose interessanti a partire proprio dalle questioni politiche. Ciao!